Bentornati a Convoi Insieme nella Fede, oggi una puntata particolare perché ieri abbiamo celebrato la giornata mondiale del malato nella festa della Madonna di Lourdes, in questo giorno in cui facciamo memoria di questo primo incontro tra Maria e Bernadette, vedete anche l'Edual e le mie spalle parla proprio di questo luogo, benedetto dalla presenza di Maria, ma andiamo per gradi perché torneremo a parlare proprio di Lourdes e del pellegrinaggio a Lourdes. Intanto voglio salutare e con voi anche condividere le intenzioni di preghiera che mi sono arrivate in questi giorni. Allora, innanzitutto chiedono preghiere Asna, Pina, Lucia, Francesca, Alfio e Morena. Luisa di Casamassima chiede preghiere per Rosa che sta lottando contro una grave malattia. Rosa, un grande abbraccio. Una famiglia di Bari chiede preghiere per un ragazzo che ha subito un delicato intervento chirurgico e ora è in rianimazione. Ovviamente chiedo a tutti davvero di fare proprie queste intenzioni di preghiera perché crediamo fortemente nella comunione che si crea tra tutti noi. Una preghiera per la famiglia de Ginosa, per la perdita della nonna. Poi Nicola da Rutigliano chiede una preghiera per coloro che lavorano in ospedale. Una preghiera da parte della famiglia di Sciale o di Scialè, non so, non ho capito bene l'accento, da Putignano per coloro che sono emarginati soli per le persone povere e per le persone che soprattutto in questo periodo sono colpite gravemente da questa emergenza sanitaria. Poi un grato saluto rivolgo a tutti gli amici di una struttura di accoglienza di Turi. Grazie dei vostri saluti e del vostro affetto. Un saluto alla signora Raffaella da parte della famiglia De Pasquale e un augurio di cuore per i suoi primi 88 anni. Auguri! E poi approfitto anche per fare gli auguri ad Anna Maria Paglionico per il suo compleanno e saluto tutti gli amici del villaggio. Poi saluto la famiglia Capozzi Dino di Bitritto, stavolta gioco in casa, la famiglia Sforza, Mimmo e Rosa, saluto Chella di Santa Chiara e tutti gli amici della città vecchia di Bari e poi un saluto particolare alla famiglia Cambione di Bitonto, in particolare a Tonetta, Sabellina, Lenuccia e Minguccio. Sono tanti i nomi. Aspettate non è finita qui perché devo continuare ancora con la richiesta di preghiere per Pina, Andrea e il piccolo Domenico Pio da Casa Massima. Ancora preghiere per Ignazio, Clotilde, Antonio e Costanza. Una preghiera per Suor Maria Rita, una suora morta da poco della parrocchia San Francesco d'Assisi di Bari. Addirittura mi dicevano, ecco chi l'ha conosciuta, che era una catechista dolcissima e quindi la vogliamo affidare per intercessione di Maria alla misericordia di Dio. E infine una preghiera per tutti coloro che lavorano in ambito sanitario e ovviamente per tutti gli ammalati. E visto che proprio ieri abbiamo celebrato la giornata mondiale del malato nella festa della Madonna di Lourdes, voglio chiudere questo piccolo spazio con una preghiera dedicata alla Madonna. O Maria, tu che hai detto a Bernadetta io sono l'immacolata concezione, vieni in soccorso di noi poveri peccatori. Donaci il coraggio della conversione, l'umiltà nella penitenza e la perseveranza nella preghiera. Ti affidiamo tutti coloro che portiamo nel nostro cuore, in particolare i malati e i senza speranza, perché tu sei la madre della consolazione. Amen. E come noi tutti sappiamo e diciamo sempre noi devoti della Madonna di Lourdes, nostra Signora di Lourdes prega per noi, Santa Bernadetta prega per noi. E allora diamo inizio a questa puntata con la buona notizia di questa domenica. Ascoltiamo la pagina del Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di Suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, diceva Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Allora, abbiamo il commento a questa pagina del Vangelo di Dontino Lucariello dalla parrocchia di San Giuseppe in Bari. Un saluto a tutti i telespettatori e alle telespettatrici, in modo particolare a te, Don Mimmo, da questa bellissima cappella della grotta di Lourdes che si trova nella parrocchia di San Giuseppe in Bari. In questa sesta domenica del tempo ordinario, nel Vangelo di Luca, troviamo Gesù con i suoi discepoli che in un luogo pianeggiante proclama le beatitudini. È ovvio che quando Gesù proclama queste beatitudini si rivolge a coloro che hanno già scelto di seguirlo. Solo con Lui la nostra vita può cambiare radicalmente e di conseguenza cambierà anche il nostro rapporto con Dio Padre e il nostro rapporto con gli altri e con le cose. Infatti Gesù crea così una situazione nuova, che non è possibile e l'ulile, perché questa situazione esige una risposta. Il sì o il no, la fede o l'incredulità. Per questo le beatitudini rappresentano la vita nuova in Cristo. Certamente queste beatitudini sono un grande impegno di tipo morale che ogni discepolo è chiamato a realizzare ogni giorno. E con queste beatitudini Gesù non fa altro che proclamare l'aberamento di tutte le promesse messianiche che già ritroviamo nell'Antico Testamento. Beati poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete, sono tutte situazioni ancora presenti nella nostra società. Chi dice sì a Gesù prova la gioia di sentirsi amato ed è certamente inserito nella storia della salvezza. Mentre dall'altra parte abbiamo i guai, che non sono delle minacce che Gesù rivolge, ma in realtà sono soltanto delle lamentazioni. Guai a voi ricchi, guai a voi sazi, guai a voi che ridete, guai a voi quando diranno bene di voi. In realtà queste persone sono già sazie della loro vita, delle loro ricchezze, del loro potere e non avvertono l'esigenza di chiedere aiuto a Dio e agli altri. Le beatitudini non sono separate però dalla persona di Gesù, perché lui è l'uomo delle beatitudini. Ma chi è il povero nella Bibbia e chi è il ricco? Il povero è colui che si affida totalmente a Dio, perché come ci ricorda il libro del profeta Geremia di questa domenica, beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Il povero è colui che nonostante tutte le difficoltà e le sofferenze che vive oggi, continua a sperare nella salvezza di Dio, a confidare totalmente in Lui. Non possiamo a questo punto dimenticare il bellissimo Cantico del Magnifica, in cui Maria, la povera per eccellenza, proclama, ha guardato l'umiltà della sua serva, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Gesù non è certamente un maestro di morale, né vuole puntare al nostro comportamento, perché la sua predicazione innanzitutto è una denuncia profetica e lo fa con frassi corte e forti contrasti. Le sue parole rimandano a situazioni ormai diffuse nella nostra società, dove c'è una continua ricerca spasmodica dell'abbondanza dei beni e c'è questa ricerca insaziabile del piacere, tutte pretese che producono soltanto vanità e quindi di conseguenza infelicità. È solo una falsa sicurezza che l'uomo si è creato e per questo non dobbiamo mai dimenticare che il ricco nella Bibbia è l'uomo orgoglioso, è l'uomo superbo, l'uomo che fa a meno di Dio. Le beatitudini invece invitano a vivere con semplicità e umiltà, cioè nella verità di Cristo. È solo così noi riusciremo ad essere beati, felici, nonostante le sofferenze del momento. Beato l'uomo che confida nel Signore. E da questa meravigliosa grotta, meta di pellegrinaggio quotidiano da parte di tanti fedeli, chiediamo a Maria, donna del Sì, di stare sempre vicino a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Buona domenica in Cristo. E ringraziamo ancora Dontino Lucariello dalla parrocchia di San Giuseppe, così come avete visto, li custodisce. Non tutti lo sanno che c'è questa bellissima riproduzione della grotta di Lourdes, meta di un flusso continuo di pellegrini che vanno in maniera così molto anonima e silenziosa a confidare alla Vergine Maria tutte le loro pene, tutte le loro speranze. E allora il 7 scorso, prima di arrivare alla giornata di ieri, abbiamo celebrato anche la festa di un santo tutto nostro pugliese, Sant'Egidio Maria da Taranto. Un santo che forse non tutti conosciamo e sarebbe bello appunto adesso andare insieme anche nel luogo natale dove lui è nato. Infatti siamo in attesa di collegarci telefonicamente con il professor Antonio Fornaro e in questa attesa andiamo un attimo nella Basilica della Madonna del Pozzo di Capurso proprio perché Sant'Egidio Maria ha portato anche a Napoli la devozione alla Madonna del Pozzo di Capurso e quindi partiamo proprio da lì per andare a Taranto poi nella sua terra natale. Andiamo a Capurso. Buonasera a te carissimo Don Mimmo, a tutti i tere spettatori di Antena Sud. Siamo dinanzi all'immagine della Madonna del Pozzo a Capurso. Dinanzi a questo volto, tre secoli fa, un giovane frate Alcantarino, Sant'Egidio Maria, sostava i suoi piedi. Fra Egidio dopo aver fatto il suo noviziato nella comunità di Galatone, siamo nel 1754 e dopo una permanenza squinzano nel 1759 fu trasferito, come avviene anche oggi per noi frati, nella comunità di San Pasquale a Chiaia in Napoli. Nel suo lungo viaggio fa sosta Capurso presso questo convento dove già qualche anno prima si era insediata a custodia di questo santuario proprio la famiglia religiosa dei frati francescani Alcantarini, voluti espressamente dalla Madonna nella visione concessa a Don Domenico Tansella nel 1705. Ai piedi di questa immagine Fra Egidio resta folgorato da questo volto di Maria che ha tra le sue braccia il bambino Gesù e qui si approfondisce la sua grande devozione alla Madonna. Prima di ripartire si fa dipingere su una tavolozza l'immagine della Madonna e giunto al convento di San Pasquale a Chiaia, Fra Egidio andava in giro e l'emossinando nei quartieri spagnoli e applicava la sacra immagine sugli infermi, la mostrava perché tutti potessero invocarlo nel bisogno. La sua presenza era desideratissima presso il letto degli ammalati o dei moribondi, tutti atei e credenti, popolani e nobili desideravano avvicinarlo per chiedere consigli nelle difficoltà della vita e implorare da lui preghiere al Signore. Con il permesso dei superiori ottenne una riproduzione ad olio dell'immagine della Madonna del Pozzo e la collocò su un altare in una cappella della chiesa. Davanti ad essa alimentava una lampada perenne. Sant'Egidio, nelle sue preghiere notturne, si rivolgeva proprio a lei, la Madonna del Pozzo, e le ricordava i nomi, le strade, le case di quanti si trovavano nell'estremo bisogno. La Vergine rispondeva a tanta fiducia intercedendo miracoli così strepitosi che la sua invocazione divenne familiare nel popolo napoletano. Fra Egidio Maria morì il 7 febbraio 1812 e il culto della Madonna del Pozzo si era diffuso ormai in tutto il regno, tanto che successivamente la Vergine fu proclamata compatrona del regno delle due Sicilie. Fra Egidio tornò con il suo corpo incorrotto per ben due volte ai piedi della sua Madonna del Pozzo, nel 1967 tra una folla festante e nel 1996, poco prima della sua canonizzazione. Per questa sua grande devozione fra Egidio a Napoli lo chiamavano non solo il consolatore di Napoli, ma anche il pazzo della Madonna del Pozzo. Carissimo Don Mimo, un saluto a te di pace e bene e a tutti i telespettatori. Buonasera a tutti. Ringrazio Fra Filippo D'Alessandro, rettore della Basilica della Madonna del Pozzo e Daniele Di Fronzo che ha permesso la realizzazione di questo contributo. Devo dire che avendo studiato a Napoli mi sorprese molto quando appunto andai a far visita alla chiesa di San Pasquale a Chiaia ed è proprio lì che vidi l'immagine della Madonna del Pozzo ed è proprio a Napoli che ho conosciuto la storia di questo santo tutto pugliese e in modo particolare tarantino. E parlando di Taranto parliamo con un tarantino doc che è il professor Antonio Fornaro. Antonio ci sei? Sì, sono in linea Don Mimo. Carissimo Antonio, ben tornato. Allora, parliamo di questo santo tutto tarantino. È nato a Taranto, vero? Sì, è nato a Taranto. Nel cuore della città antica esiste ancora il cubicolo, bisogna dire così, usare questa espressione dove nacque, era umile, nacque in un basso alpendio la riccia. Beh, Sant'Egidio è il santo, permettimi di dire, dell'umiltà, della semplicità, della mortificazione, della carità e anche il santo innamorato della Madonna. Due volte della Madonna. Prima della Madonna del Pozzo e poi della Madonna del Rosario. Che bello, no? Perché pensavo che in fondo noi oggi parleremo in maniera più diretta dopo della Madonna di Lourdes e quando pensiamo a Lourdes pensiamo all'acqua che è l'elemento che caratterizza questa manifestazione mariana. Ma neanche a farlo apposta, parlando della Madonna del Pozzo, anche lì parliamo dell'acqua come elemento che caratterizza questa devozione. Possiamo dire che anche questa devozione mariana ha generato tanta santità e tra questi appunto Sant'Egidio. Tanto è vero che, come abbiamo ascoltato, era chiamato il pazzo della Madonna del Pozzo con questo gioco di parole. Sì, Don Mimmo, ti devo dire che il nostro Sant'Egidio aveva un percorso ben delineato partendo dal pendio Lariccia dove era nato, si fermava in Ia Duomo nella chiesa degli Alcantarini, la chiesa di San Michele. La seconda sosta la faceva a dieci metri di distanza dalla casa natale del grande musicista tarantino Mario Costa, proprio sotto l'arco che si chiama Arco Madonna del Pozzo perché lì c'era e c'è ancora un'edicola votiva bellissima che si caratterizza per due fatti. Prima di tutto perché sotto all'interno c'è ancora il pozzo con l'acqua miracolosa e poi c'è un altare. È l'unico esempio in tutte le edicole votive di Ipilia la presenza di questo altare. E lì era devotissimo della Madonna del Pozzo, al punto tale che ancora oggi nella chiesa francescana di San Pasquale a Taranto c'è sulla destra un altare tutto dedicato alla Madonna del Pozzo con una bellissima icona della Madonna del Pozzo. Tu parlavi dell'acqua. Noi abbiamo una grande demozione per questo tanto perché nella biografia di San Cataldo si parla anche di San Cataldo che è inquietato perché lo avevano messo da parte, perché non avevano rispettato il suo comando di accogliere gli stranieri, di accogliere coloro che venivano là fuori da San Cataldo andò a nascondersi in fondo ad un pozzo, pensa un po', il pozzo è sempre presente come acqua miracolosa. Infatti l'elemento dell'acqua è sempre molto presente. Antonio scusami, parlando di acqua, permettimi, ho sentito che legato alla figura del grande santo che è Sant'Egidio Maria, un grande uomo di preghiera, addirittura chiamato davvero un grande consolatore perché era uno a cui tanta gente affidava le sue preoccupazioni. Ecco, c'è un miracolo legato alle anguille, o mi sbaglio? Sì, veramente sono due i miracoli legati alla santo. Sarò velocissimo e dirò che tutto questo è stato testimoniato per evitare che la gente che ci ascolta possa pensare a delle fantasie, non sono fantasie, sono fatti realmente, a capire documentati in un sede di dibattimento per la canonizzazione. Bene, allora una famiglia acquistò un grande quantitativo di capitoni e di anguille per portarle a Napoli, vendone, ma appena arrivati a Napoli si accorsero che tutte le anguille erano morte. Come fare? Andiamo da Egidio, il frate Egidio, e quindi andavano e diceva, ma che cosa volete? E diceva, queste sono morte. Lui prese il cordone che è legato, come noi ben sappiamo, ai cintoni dei Francescani, toccò le anguille e le anguille all'improvviso da morte diventarono rile per la grande gioia delle... E lui diceva, alle anguille che non volevano gioiarsi, diceva il dialetto napoletano, scetatelo! Addirittura! Sì, 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 scetatelo, animaluzze del biglio, un bacio spaventato a Tuglio. Ma poi accadde un altro fatto al contrario, era la vigilia di Natale, c'era la grande festa a Napoli, e lui si legò al mercato per chiedere il melemosina per il convento. Gli allegò proprio il venditore di anguille. E il frate disse, non mi importa, sarà per una prossima volta, riprese il tuo cammino, ma subito dopo lo andarono a cercare e lo portarono a difeso sul posto, perché tutte le anguille c'erano. Prima erano vile, poi erano morte. Come fa? Ho capito, quindi un miracolo al contrario si può dire. Ho capito. Ma ne ha fatte tante, ha diventito adesso in prigione anche San Pasquale, ma sarebbe troppo lungo, è una casistica bellissima, iniziando credili del quale noi tarantini non andavamo, andiamo ancora oggi orgogliosi, perché il culto è molto, molto distinto, non soltanto nella chiesa di San Pasquale, ma anche nella parrocchia a Stramontone che è intitolata al nostro Santo. Va bene, Antonio ti devo salutare, perché il tempo è il nostro più grande nemico, però sono contento di averti sentito e grazie per quello che hai detto su Sant'Egidio. Antone, quanto vuoi ritienimi a disposizione di la tua bella trasmissione. Grazie, grazie di cuore. Ciao Antonio, a presto, a presto. E allora, prima di andare in pubblicità, è giusto che io saluto i miei ospiti, perché subito dopo questa pausa noi andremo, tra virgolette, all'Urde. Allora, ringrazio Don Mario Persano, assistente dell'Unitalsi nella diocesi di Bari. Poi, Sante Scaranello, che è presidente della sottosezione di Bari, sempre dell'Unitalsi. Enzo Castro, volontario della sottosezione di Bitonto. E poi abbiamo Pietro Barbieri, direttore della Corale Vic, che poi devi un po' spiegare questo acronimo. E Sebastiano Ruggeri, che è vice direttore. Quindi, come vedete, ci prepariamo a vivere un secondo blocco abbastanza movimentato, per cui prendiamo un attimo di respiro, perché torniamo con voi a tra poco. Eccoci qua, bentornati. E allora, era l'11 febbraio del 1858 e Bernadette andava in giro così per cercare legna, perché sappiamo bene che viveva una condizione di grande povertà, per cui per potersi riscaldare, riscaldare la sua famiglia, necessitava con quel freddo, ecco, la ricerca di un po' di di legna, da far ardere. E a un certo punto Bernadette fa questo incontro. È molto interessante la descrizione, perché lei sente prima un colpo di vento, poi mentre si stava sfilando il secondo calzino per passare il torrente del Gav, si gira e vede un sorriso, un sorriso che la incanta. E dopo questo sorriso inizia il dialogo, prima silenzioso e poi parlato, con un segno di croce, quasi a dire iniziamo a parlare ricordandoci, ecco, che apparteniamo a Cristo. E quindi col segno di croce nasce l'esperienza meravigliosa di Lourdes. E allora andiamo un attimo lì dove tutto è iniziato. E ringrazio padre Nicola Ventriglia, responsabile di tutti i cappellani di Lourdes, soprattutto dei cappellani italiani, perché ha inviato a me e a tutti voi in modo particolare un saluto rapidissimo con tutti gli impegni che aveva, però ha voluto essere presente anche quest'anno in mezzo a noi, con questo saluto che vediamo insieme. Carissimi amici di Antenna Sud, un caro saluto a Don Mimmo innanzitutto, che mi ha chiesto di fare questa piccola registrazione da qui, da questo luogo baciato dal cielo. E poi un caro saluto a tutti voi, pellegrini, ammalati, devoti. So che spiritualmente siete qui con noi all'Urdi in questo giorno particolare, che è l'anniversario della prima apparizione, il giorno in cui la Vergine Maria appare a Bernadette e per Bernadette sarà un'esperienza indimenticabile, sarà l'inizio di un'avventura meravigliosa. E allora da qui io vi do un saluto e vi assicuro la mia preghiera perché anche voi in questo giorno con noi possiate fare un'esperienza meravigliosa. Noi qui e voi e lì da dove ciascuno di voi è chiamato a vivere questa giornata. Un caro saluto a tutti gli amici ancora di Antenna Sud e a te Don Mimmo. Grazie, grazie carissimo padre Nicola, spero di incontrarti presto a Lourdes perché non vedo anch'io l'ora di tornare in quel luogo davvero baciato dal cielo. Don Mario, allora, Bernadette sappiamo tutti che veniva da una famiglia poverissima e possiamo dire che nella persona di Bernadette si vede la fantasia di Dio perché nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di lei perché lei ha fatto diventare l'Urd la capitale mondiale della preghiera. E proprio nella natura del miracolo, nella natura del modo come Dio interviene, valorizzare, cogliere ciò che è nulla perché possa diventare tutto. Ho avuto la fortuna e la grazia di poter andare tante tante volte a Lourdes accompagnando gli ammalati, accompagnando anche tanti amici. Le ultime volte anche gli ammalati di tumore perché faccio il cappellano all'oncologico a Bari e la cosa che mi ha sempre colpito, sempre e profondamente commosso è che a partire da questa ragazzina ignorante, povera, questa ragazzina, se vogliamo, insignificante rispetto a tutto il mondo che c'era attorno a lei, la Madonna ha scelto Bernadette, ha scelto questa ragazzina per potersi farsi vedere, per poter comunicare, ha scelto questa ragazzina perché attraverso di lei noi potessimo anche incontrare la Madonna. E allora io tante volte andando a Lourdes ho sempre detto una cosa a tutti gli amici che venivano con me, anche gli ammalati, non abbiate paura di domandare, di chiedere. A Lourdes ci va per domandare, per chiedere, anche per ringraziare. Ci domanda il miracolo, ci domanda il miracolo perché il modo attraverso cui Dio interviene nella nostra vita è sempre un miracolo. Certo, certo. Poi torneremo all'esperienza che tu vivi in un ospedale con indirizzo oncologico proprio perché possiamo dire che tu tocchi con mano la carne sofferente, possiamo dire quella parte dolorosa del corpo di Cristo. Sante, tu diciamo nel tuo percorso di vita possiamo quantificare quante volte sei stato a Lourdes? Sono 55 anni che sono iscritto all'Unitalsi e 54 anni dal mio primo pellegrinaggio. Quanto è importante per te l'incontro con Maria a Lourdes attraverso appunto questo pellegrinaggio che l'Unital si organizza ogni anno? È un momento importantissimo dell'anno per me. È un punto di arrivo ma contemporaneamente è un punto di partenza. Certo. Vai lì praticamente è per deformazione professionale il punto di ricarica. Vado lì, faccio rifornimento e posso ripartire per il nuovo anno. Certo. In questi due anni che non siamo stati a Lourdes io per fortuna l'anno scorso sono riuscito ad andarci. La mancanza si sentiva, si sentiva, hai proprio voglia di toccare con mano, di vivere ogni anno quell'esperienza di Lourdes perché ogni anno ti dà qualcosa di nuovo. E io ti devo ringraziare Sante perché dovete sapere cari amici che Sante recita un rosario tutto particolare quando è davanti alla grotta perché sappiamo che il rosario è composto da 50 Avemarie. Ecco, Sante quando si trova davanti alla grotta, tu mi dai conferma, che chiama 50 persone dicendo 50 Avemarie davanti alla grotta e tra queste lo scorso anno ci sono stato anch'io che con la mia mamma abbiamo ascoltato la tua preghiera e ci siamo uniti in preghiera e devo dire che è stato un momento di grande emozione perché sappiamo bene Lourdes cosa rappresenta per noi. Sì, è un'esperienza nata casualmente se vogliamo perché quando vai in pellegrinaggio e saluti gli amici, tutti quanti ti dicono mi raccomando di una preghiera per me, mi raccomando è. E tantissimi anni fa, non ricordo con precisione quando, una trentina d'anni fa, ci fu una persona, un personaggio in vista della città di Bari che mi pregò, dice, per cortesia una preghiera per il mio papà che sta male. Io andai a Lourdes, gli ho assicurato, gli disse, Sante ci tengo in modo particolare, ok d'accordo, andai a Lourdes e andai alla grotta, tornando, gli ho dimenticato di dire l'Avemarie, tornai indietro per dire questa Avemaria, poi dissi ma perché non chiamarlo e fargliela dire insieme a me? E di lì è nato. Perché quando lo chiamai e dissi, io sto davanti alla grotta, vogliamo dire l'Avemarie insieme, perché la devo ricitare io soltanto? Può darsi che la Madonna a te sei il figlio, ti ascolti sicuramente di più che a me che sono estraneo. E solo che lui scoppiò a piangere e questa sua reazione proprio mi scosse parecchio e da allora ho incominciato, perché non chiamare ogni volta le varie persone. E di lì è nato questo rosario sui genesi. E' un gesto bellissimo, di grande attenzione, molto bello. E ho trovato tantissime situazioni di persone che speravano in un momento di preghiera per poter raccomandare alla Madonna se stessi. I propri bisogni e le proprie preghiere. Enzo Castro, allora io ti ho presentato come volontario della sottosezione di Bitonto. Allora spiegami, spiegaci. Perché una persona volontariamente sceglie non solo di intraprendere un pellegrinaggio, ma soprattutto all'interno di questo pellegrinaggio di servire, di coccolare, possiamo dire, un ammalato, anche se non è un parente, in maniera gratuita e disinteressata? Beh, per fare questo è bene partire dall'inizio, dalle motivazioni che mi hanno indotto a fare il primo pellegrinaggio, che poi sono quelle motivazioni che toccano qualunque ragazzo dell'epoca, perché io avevo 24 anni e di conseguenza era un ragazzo che aveva delle motivazioni per andare a Lourdes, dove la principale era quella che avevo conosciuto una volontaria che mi interessava e quindi sarebbe stato... E poi sarebbe diventata la moglie, questo ve lo dico io giusto per... E quindi quale motivazione più profonda poteva essere quella di stare sette giorni con la ragazza che altrimenti l'avrei potuta vedere un'ora al giorno, due ore al giorno all'epoca? E quindi come tutti i ragazzi avevamo delle motivazioni, diciamo, non proprio profonde, ecco. Però era una motivazione che poteva essere uguale a quella della curiosità, dell'andarci con gli amici, dell'andarci con le persone che avevi conosciuto e che stavi bene, era un motivo anche per andare, per andare dove non lo sapevamo, era un motivo per andare e ci dovevamo affidare a qualcuno. E questo affidamento poi è diventato anche la motivazione per cui doveva essere anche un affidamento di qualche altro che doveva trovare le sue motivazioni. Però questo qualcun altro non poteva andarci da solo, aveva bisogno di qualcuno che lo accompagnasse ad andare. E questa è stata la motivazione per cui non solo iniziale, ma quella che mi accompagna ancora oggi. Certo. E devo dire che è davvero lodevole quello che queste associazioni svolgono all'URD, perché all'URD il protagonista principale, ovviamente, insieme alla Vergine Maria, poi sappiamo bene che l'URD è anche un santuario eucaristico, dove anche in concomitanza proprio delle processioni eucaristiche sono avvenuti anche dei grandi miracoli. Ecco, il malato è, possiamo dire, la persona che vive all'URD la sua cittadinanza onoraria, diciamo così, proprio perché la Madonna ha voluto tutto questo. E allora ci fermiamo un attimo e andiamo da Don Felice di Molfetta, Sua Eccellenza, Monsignor Felice di Molfetta, che è assistente regionale dell'Unitalsi, perché anche lui, nella sua bontà e lo ringrazio dal profondo del cuore, ha lasciato per tutti noi questo video messaggio. Guardiamo insieme. Buonasera, Don Mimmo. Hai voluto che annunciassi la mia presenza in questo incontro lodevole che stai facendo in preparazione all'evento della Madonna di Lourdes. E come vedi, io sono qui nella chiesa rettoriale di Sant'Ignazio, dove c'è anche qui ripreso una grotta con il gruppo che fa riferimento alla Madonna e a Santa Bernadette. La tua lodevole iniziativa per la trasmissione mi permette di dirti grazie per questo servizio che stai rendendo e nello stesso tempo dire anche a coloro che sono in comunione adesso attraverso il mezzo televisivo di contemplare la Vergine Maria non soltanto vedendo la grotta, ma guardando il proprio essere e il proprio cuore, che potrebbe diventare quella una vera e propria grotta in cui Maria continua a parlarci nel silenzio e nella comunione nei confronti di coloro che sono nella malattia, nella solitudine. Un discorso che può davvero manifestare quella dinamica di solidarietà che rende il messaggio di Lourdes un vero e proprio messaggio evangelico. La Madonna davvero continua a richiamarci a Lourdes, ma quando anche non dovessimo essere presenti facciamo di ogni nostra casa e di ogni nostra testimonianza di vita una presenza mariana che sia davvero richiama di questa irradiazione del cielo che ci prende e ci riporta ai valori più belli e più alti. E' quello che auguro a coloro che ci ascoltano e quello che auguro anche a te per questa lodevole iniziativa. Buona festa della Madonna di Lourdes. Grazie eccellenza, grazie di cuore. Allora ci fermiamo per un minuto di pubblicità e poi torniamo qui perché tra poco andremo a Pulsano, vicino Taranto, con il nostro Nini Galasso, perché ha scoperto per noi un santuario con una grotta di Lourdes. pubblicità. Eccoci qua, torniamo a Lourdes. Intanto voglio dirvi che mi sento davvero bene, come vedete con l'immagine della Madonna alle spalle, questa statua famosa in tutto il mondo, opera dello scultore Joseph Fabisch, il quale però ebbe qualche problema con Bernadette perché Bernadette spiegava allo scultore e all'artista tutte le movenze, addirittura le pieghe dell'abito, ma a opera finita Bernadette dette allo scultore è una grande delusione perché nemmeno l'arte più bella è capace di esprimere la bellezza di ciò che viene dal cielo. Tanto è vero che di fronte a quest'opera Bernadette disse è molto bella ma non è lei e lo scultore ci rimase malissimo. Eppure noi, poveri esseri umani, direi tra virgolette poveri figli di Eva, dinanzi a questa immagine chissà quante preghiere abbiamo detto proprio perché è diventato un tramite, una finestra che si è spalancata verso quel sorriso che Bernadette ha visto la prima volta in quella grotta così particolare spero di poterne parlare dopo. Don Mario, la tua esperienza nell'istituto oncologico ti fa toccare con mano la sofferenza? sappiamo che anche Bernadette è morta con un tumore osseo e Padre Pio diceva non si possono chiedere sempre miracoli ecco, di fronte alla sofferenza di tante persone e credo alla richiesta legittima anche di tanta gente, soprattutto giovane che talvolta sfida Dio, diciamo così perché ha bisogno della guarigione e con noi sacerdoti come ci dobbiamo comportare? una cosa che ho imparato è che la novità, la grande novità del cristianesimo non è un distacco dalla condizione umana ma è uno sguardo di compassione compassione vuol dire di profonda partecipazione compassione vuol dire un abbraccio reale a chi ti sta dinanzi, a chi domanda, a chi chiede all'oncologico abbiamo la fortuna di poter ogni giorno portare la santa comunione a tutte le persone che sono presenti questo l'ho voluto dall'inizio perché insieme alla medicina, alla terapia alla terapia che bisogna fare sicuramente c'è innanzitutto bisogno della medicina come dice il Papa, della medicina dell'anima della medicina che innanzitutto permette di stare di fronte al mistero di Dio io dico sempre che dobbiamo domandare i miracoli questo bisogna farlo sempre perché al Signore innanzitutto si chiede il miracolo ma si aggiunge anche un'altra cosa che ho imparato da un mio amico prete che è morto di tumore abbastanza giovane nell'ultima sua omelia non poteva quasi più parlare perché ormai la voce gli era diventata flebile quasi irriconoscibile se vogliamo l'ultima omelia che ha fatto pochi giorni prima di morire ha detto queste parole è bello affidarsi al Signore è bello affidarsi al Signore si domanda il miracolo e si concludi dicendo per grazia di Dio si può concludere dicendo è bello affidarsi al Signore e beh questo richiede davvero un grande sforzo di fede che auguro a tutti noi di poterlo avere soprattutto nel momento in cui sappiamo che se non c'è il miracolo ecco ci si avvia verso un percorso che tutti noi sappiamo e quindi conviene ecco approfitto anche perché nel frattempo mi arrivano saluti e intenzioni di preghiera innanzitutto saluto Gianluca Tommasicchio e tutta la sua famiglia e lo ricordo nella preghiera e saluto anche Vito Lasorsa con tutta la sua famiglia e allora come ho detto Nini Galasso è andato per noi a Pulsano e ha trovato un bellissimo santuario dedicato alla Madonna di Lourdes andiamo a Pulsano Cari amici di Convoi Insieme nella Fede oggi mi trovo in provincia di Taranto a Pulsano Don Mimo oggi andiamo alla scoperta della chiesa di Santa Maria la Nuova dove all'interno c'è il santuario di Nostra Signora di Lourdes e poi andiamo alla scoperta della chiesa di Taranto Don Mimo ci troviamo all'interno della parrocchia Santa Maria la Nuova qui a Pulsano e ci troviamo proprio ai piedi della grotta che è stata eretta in onore della Madonna di Lourdes qui accanto a me Don Franco ecco Don Franco le chiedo come è nata la devozione qui in Pulsano alla Madonna di Lourdes intanto diciamo che a Pulsano la devozione alla Madonna si è sempre stata perché il titolo della parrocchia è Santa Maria la Nuova la patrona è la regina dei martiri la motivazione per la quale c'è stata poi questa devozione a Madonna di Lourdes è dipeso dal fatto che un medico pulsanese è andato per un viaggio insieme con il treno degli ammalati a Lourdes era anche lui un ammalato, un cancro è stato guarito a Lourdes è tornato e ha voluto fare dono a questo paese al suo paese della grotta della Madonna di Lourdes è stato eretto questo luogo nel 1933 e da allora si è sviluppato una devozione molto grande alla Vergine Santa dei Pirenei ecco qui vengono in questo santuario migliaia e migliaia di persone ecco al giorno quante persone accoglie questo santuario in questo periodo che è un periodo ancora pandemico questo periodo di pandemia vengono ogni giorno in queste 15 giornate chieste la Madonna a Santa Bernadetta 500 persone sicure al giorno quindi c'è una devozione molto è forte la devozione alla Vergine Santa molto forte e molto sentita la ringrazio Don Franco quindi Don Mimo noi ora vediamo ecco con le immagini questa meravigliosa grotta eretta all'interno di questa parrocchia e la vediamo con i dettagli appunto con quella cavità dove la Madonna di Lourdes apparve a Santa Bernadette ecco Don Mimo possiamo notare il particolare con l'immagine del dottor Egidio degli Ponti che come ci ha spiegato Don Franco ammalato andò a Lourdes con il treno bianco e ritorno da Lourdes guarito e per questa motivazione nel 1933 fa erigere questa cappella in onore della Vergine di Lourdes ricordiamo anche che questa cappella poi è stata elevata anche a rango di santuario santuario appunto dedicato a nostra signora di Lourdes quindi la presenza ecco che noi avvertiamo in questa chiesa è anche una presenza amorevole della nostra mamma celeste che ci accoglie e che ascolta soprattutto le nostre preghiere e che ci accoglie e che ci accoglie ai piedi della patrona di Pulsano la Madonna dei Martiri Don Mimmo poi un altro dettaglio dietro la Madonna dei Martiri abbiamo trovato San Trifone caro compatrono della città di Pulsano io voglio augurare a tutti voi telespettatori un buon pomeriggio e un saluto anche da tutta la comunità pulsanese che ci ha accolti grazie a voi e tanti auguri Don Mimmo per il suo lavoro grazie, grazie di cuore sono sicuro che vi ha dato tanta gioia vedere questa grotta e sono certo che tanti di voi si metteranno in macchina e andranno a Pulsano per vederla e per dire una preghiera Enzo Castro, l'Unitalsi ogni anno l'URD propone un tema pastorale ecco, qual è il tema di quest'anno? come si sviluppa? il tema di quest'anno ripercorre un po' la frase che la Madonna ha dato a Santa Bernadette nella tredicesima apparizione sappiamo che le apparizioni hanno una sequenza particolare le prime due sono state in silenzio nella terza la Madonna dice qualcosa a Bernadette ma è qualcosa di intimo dice, volete farmi la grazia di venire qui per 15 giorni? e in questi 15 giorni avviene un contatto tra madre e figlia molto intimo un po' come la mia prima volta la mia prima volta che è stato prima un fatto personale poi è diventato pian piano ecco, si è allargato alla comunità si è allargato anche al coinvolgimento di tante altre persone fino ad arrivare poi ecco alla tredicesima apparizione dove la Madonna dice a Bernadette adesso finisce il momento intimo tra me e te adesso diventa il momento pubblico ufficiale ufficiale di affidare il messaggio alla Chiesa andate a dire perché la Madonna dava il lei il voi a Bernadette andate a dire ai sacerdoti e poi c'è tutto il resto quindi è questo il tema di quest'anno? andate a dire ai sacerdoti questa è una trilogia in questi tre anni 2022, 23, 24 e andate a dire ai sacerdoti che si venga in processione e che si costruisca una cappella ho capito lì qui quindi diventa un fatto una missione che viene data a Bernadette quindi vengono coinvolti poi i sacerdoti perché è appunto la missione della Chiesa infatti Bernadette subito dopo questa apparizione non va a casa al Casciò ma va direttamente alla Chiesa parrocchiale perché deve informare il parroco di questo messaggio e quindi poi sappiamo come va a finire perché il parroco non li accoglie bene è un po' burbero ma poi pian piano si lascia convincere come si lascia convincere le cose di Dio trovano i loro ostacoli ma soprattutto perché venga fuori la verità del resto mi affascina sempre l'immagine della Madonna con le rose d'oro sui piedi perché lei poggia i piedi in un luogo chiamato la Tuto Coshon cioè il luogo dei maiali dove andavano praticamente gli animali più sporchi diciamo così a stanziare in quel luogo e allora ci fermiamo ancora un attimo poi concludiamo il viaggio a Lourdes con Sante che ha un appello da fare a tutti voi e soprattutto ai più giovani pubblicità e poi torniamo e allora prima di dare la parola al presidente dell'Unitalsi di Bari voglio condividere quest'altra intenzione di preghiera Paolo Moraglia che chiede preghiere per la sua mamma e allora Sante un appello, un invito? un appello forse sono il meno indicato ad un invito del genere però per l'esperienza che ho vissuto per le grazie che ho sempre ricevute ricevuto andando a Lourdes veramente un invito ai giovani provate l'esperienza di Lourdes da quanti mi dicono Sante è un'esperienza che bisogna fare almeno una volta nella vita tanto poi è lei che alla fine decide questo sì, questo no quindi per cui chiunque abbia questo desiderio questa tentazione positiva bene può chiamarci tranquillamente noi dell'Unitalsi siamo a disposizione per accompagnarlo in questa esperienza e se volete farlo potete contattare anche a me attraverso l'indirizzo con voi chiocciolantennasud.com potete anche contattare me e poi io saprò come distribuire tutte le varie adesioni ci conto mi raccomando e allora adesso torniamo con le nostre corali di Puglia e allora oggi ce l'abbiamo proprio in presenza non abbiamo un collegamento telefonico e ringrazio da capo Pietro Barbieri e Sebastiano Ruggeri allora Pietro che cos'è questo corovic è un acronimo sentiamo assolutamente sì acronimo di la vita è un inno cantalo frase dell'inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta così leggendo la sua biografia mi soffermai un po' su quest'inno alla vita e una delle frasi è la vita è un inno cantalo ed è diventato poi la denominazione della nostra associazione e quindi corovic questo corovic Sebastiano e allora come nasce quando nasce da quanti è costituito questo coro? allora ovviamente io sono nuovo di questa di questa associazione poiché è poco più di un anno che mi sono trasferito dalla Toscana dove ho vissuto per circa 40 anni e niente mi sono affacciato in questa nuova realtà di questo coro mentre assistevo e niente dalle nozioni che le prime nozioni che ho appreso diciamo che inizia nel 2015 il percorso ma si costituisce nel 2016 ovviamente le finalità dell'associazione sono quelle di promuovere i canti liturgici polifonici da divulgarsi principalmente nei luoghi di culto ossia le chiese certo Pietro diciamo che con te è nata l'idea poi anche con Luciano Fiore che approfitto a salutare se è in ascolto diciamo questo percorso questo itinerario per conoscere queste realtà che secondo me le corali sono davvero una bella realtà e hanno anche una finalità nobile perché alla fine aiutano la comunità a incontrare il risorto nella celebrazione soprattutto nell'eucaristia domenicale come l'hai vista questa esperienza perché noi stiamo quasi per terminare perché poi con la quaresima inizieremo nuovi incontri nuove rubriche ve lo dico già in anticipo che sto prendendo contatti con un famoso sindonologo perché per il percorso quaresimale vogliamo conoscere sempre meglio questa reliquia così importante ma ne parleremo più in là come l'hai vista questa esperienza? è un'ottima iniziativa poi con il maestro Fiore ci siamo conosciuti in seno alla federazione nazionale Federcori e lui è stato il promotore proprio di di un festival tenuto a ottobre a Bari il 24 ottobre con le corali pugliesi appunto e abbiamo fatto ogni corale faceva un concerto e un'animazione liturgica per poi sul sagrato della chiesa di San Ferdinando via Sparano abbiamo cantato tutti insieme io non so se in regia ci sono foto relative al coro Vic così iniziamo già a prendere confidenza con questa realtà nel frattempo Pietro quanti sono gli elementi? ora siamo una trentina però voglio precisare è che questo coro è accompagnato anche da 20 elementi di orchestra tutti ragazzi talentuosi molti maestri anche già diplomati e molti si stanno anche diplomando e quindi il nostro valore è aggiunto proprio alla nostra alla nostra corale questi ragazzi che insomma veramente sono così appassionati e ci tengono a far crescere questa realtà molto bella avete un punto di riferimento un sacerdote un parroco no perché noi non siamo un coro parrocchiale ma bensì un'associazione però molto vicina alle parrocchie dove andiamo anche qui abbiamo Don Mario che ne è testimone che siamo rivolti anche nella sua parrocchia per poterci esibire proprio dopo il problema del covid la parrocchia è una bellissima parrocchia di San Nicola a Carbonara ma un po' piccola per ospitarci tutti però attendiamo sempre tempi migliori per poter avete progetti per il futuro al momento covid permettendo per Pasqua abbiamo un musical di Pasqua con musiche di Don Fabio Baggio e Don Giosicento Cristo Ieri Oggi È Sempre e poi anche un concerto con coro e orchestra Io mi auguro che questo tipo di esperienza venga vissuta anche dal punto di vista spirituale come un incontro e Sebastiano? Sì sì beh indubbiamente è un incontro che ovviamente avviene con il pubblico presente che dimostra anche di gradire i nostri canti che ripeto sono prettamente liturgici quindi canti sagri anche in lingua latina che quindi possono diventare anche un incentivo per e allora vediamo un'esibizione proprio di questo coro Vic e poi magari lo commentiamo insieme vediamo un'esibizione un'esibizione che è un'esibizione Grazie a tutti. 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 Buon pomeriggio telespettatori di Antenna Sud, in diretta dall'ospedale Cardinale Panico di Tricase, rinomato perché insomma a portarlo avanti c'è Suora Margherita, direttore generale. Grazie a tutti. Lo dicono anche i commenti e i fatti. Vi sono anche le Suore che danno un grosso aiuto all'interno dei reparti. Ieri è stata la giornata del malato, qui si è svolta una cerimonia che abbiamo raccontato anche nel nostro telegiornale. E il Vescovo Monsignor Angiudi ci ha tenuto proprio a sottolineare l'umanizzazione che avviene all'interno dei reparti dell'ospedale Cardinale Panico grazie alla presenza delle Suore. Insomma un supporto fondamentale la presenza delle Suore nei reparti. Sì, da una parte le Suore, dall'altra parte l'impegno di formazione perché anche il personale acquisisca quello stile di umanizzazione nella cura del malato. Per cui la nostra attenzione è sulla scuola, soprattutto per la formazione infermieristica, ma anche con altri collaboratori che arrivano da altre parti e cerchiamo di trasmettere quello che è il nostro stile di servizio cristiano. Ecco, la Suor Margherita faceva riferimento proprio ai giovani che studiano qui a Tricasa perché c'è una scuola appunto di scienze infermieristiche. Sono ragazzi che si preparano poi nel futuro, a prescindere se lavoreranno in ospedale, in strutture private, lavoreranno in solitaria, ma viene insegnato appunto l'amore non soltanto nei confronti di quella che è la professione, ma anche quel tatto che bisogna avere chi in quel momento sta soffrendo perché anche una parola, delle volte anche stare in silenzio è fondamentale. Certo, e direi che è molto importante in questo momento storico che stiamo vivendo perché è diventato molto più difficile l'umanizzazione, un po' per lo stress del personale, perché la situazione del Covid-19 ci sta spingendo a turni a volte massacranti e quindi persone umane siamo. Qualche volta anche gli operatori e tutti noi facciamo fatica qualche volta a rispondere con umanizzazione all'assistenza. D'altra parte, a mio avviso, c'è anche un altro problema che è quello della tecnologia. La tecnologia molto avanzata, la robotica, tutte le nuove istituzioni che sono importantissime, fanno parte un po' di quel progetto innovativo che è essenzialissimo per l'ospedale, che però ci richiede un approccio di tipo diverso perché l'innovazione, secondo me, deve essere sviluppo per l'ospedale. Per cui occorre nutrire dentro di sé un approccio umanistico anche con queste macchine, molto spesso chiederci a che cosa serve, perché sappiamo invece che la spinta esteriore verso questa innovazione molto spesso è di tipo merceologico, di tipo finanziario. E quindi è un impegno molto importante saper discernere anche nella tecnologia tutto in funzione della qualità dell'assistenza. E questo è un impegno molto importante. In piena pandemia, con la chiusura dei reparti nei confronti delle persone esterne e quindi i parenti che non potevano avere accesso, si è vissuto un momento davvero particolare. Qui ha giocato un ruolo fondamentale il personale sanitario, le suore. Sotto stress si è riusciti comunque a garantire la presenza. Nessuno si è sentito, diciamo, abbandonato. È un'esperienza che ho provato in prima persona e per questo la sto raccontando proprio qui in questo ospedale. Quindi avete fatto tanto, state continuando a fare tanto. Certo. Penso che non abbiamo avuto, almeno al momento, delle lamentele. Abbiamo molto spinto sul personale a stare molto vicino al paziente, a parlare, a telefonare ogni giorno a casa col paziente. Poi la tecnologia ci ha molto aiutata perché con le videochiamate questo ha facilitato moltissimo i contatti, la relazione umana del paziente con i propri parenti. Io, in chiusura di collegamento, Don Mimmo, ne abbiamo parlato molto, insomma, dell'importanza nei confronti degli ammalati, del personale. Ma chiudiamo anche con un messaggio, perché in questi giorni abbiamo parlato anche molto della Madonna di Lourdes, che chiaramente viene richiamata. Abbiamo parlato anche dell'importanza del sacramento, dell'unzione degli infermi, che viene fatta non soltanto a che infermo, ma magari a chi raggiunge una certa età. È bene accostarsi annualmente a questo sacramento e proprio qui, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, questo viene fatto. Ma io, da Sor Margherita, voglio un messaggio, una parola nei confronti di quelle persone, soprattutto giovani, che quotidianamente prestano servizio. Magari accudiscono un anziano o si ritrovano a fare proprio il lavoro di badante o magari prestano servizio presso più persone con l'assistenza porta a porta. Ce ne sono tante di queste persone. Un messaggio a come affrontare il rapporto con l'anziano, non limitarsi soltanto a quelle che sono le indicazioni mediche. Sì, intanto veramente un grazie di cuore, perché ci sono tante di queste persone che, diciamo, integrano un po' il servizio di assistenza alle persone. E quindi già questa disponibilità è molto importante. Il messaggio che mi sento di dare è quello di pensare sempre che di fronte a sé c'è un fratello. Grazie a Sor Margherita per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. E qui, dalla cappella dell'ospedale di Tricase, la linea può tornare allo studio. Grazie Paolo. Mi sembrava giusto aprire questa finestra su questa realtà, perché un po' racchiude tutte le realtà che hanno a che fare con le eccellenze anche della sanità nostra. Perché, Don Mario, che dici? Lo possiamo considerare, tra virgolette, anche un miracolo lì dove appunto la salute viene tutelata da persone che si prendono cura, pensando appunto di rendere un servizio. È un miracolo, è un miracolo della carità, perché la carità è il modo come Dio agisce nella nostra vita. Quando accadono, come abbiamo ascoltato, l'esperienza a Tricase di questo punto di eccellenza anche della cura del tumore, lo zampino di Dio c'entra sempre. Io di questo ne sono convinto. Nell'amicizia con tanti medici dell'oncologico, al di là della loro grande capacità, spesso ci diciamo che oltre la bravura e la capacità di un medico, c'è bisogno anche che il Signore ci metta del suo. E noi preghiamo perché tutto questo avvenga e avvenga presto. Allora, c'era Santi che voleva fare un appello? Sì, i giovani, invitavo prima i giovani. Allora, i giovani dai 18 ai 28 anni hanno tempo fino al 9 marzo per avvicinarsi all'Unitalsi, perché l'Unitalsi è sede accreditata del servizio civile, quindi possono fare domanda di partecipazione al servizio civile e viverlo, facendo contemporaneamente l'esperienza unitaziana. Tieni presente che tanti giovani che hanno fatto servizio civile presso l'Unitalsi sono attualmente giovani presidenti delle varie sottosezioni dell'Unitalsi. Che bello. Ecco perché. Questo è molto bello. Va bene, questo è un invito. Enzo, non so se durante la pandemia tu non ci sei stato all'Urd, sei stato... Sono stato l'anno scorso a luglio e a settembre. Che effetto ti ha fatto nel contesto pandemico imbatterti in quella grotta? La riapertura è stata una cosa straordinaria, è stato molto emozionante il ritornare, anche perché c'è stata tutta una certa esperienza personale che ho vissuto nel 2020, no? E quindi tornare lì è stato come rinascere. Raccontarla, Don Mimmo, è complicato. Non si riesce a far capire o ad esprimere questa grandezza. Bisogna viverla, per forza. E noi siamo lì. Siamo lì. E noi non vediamo l'ora di tornarci, perché davvero l'Urd è qualcosa che ci coinvolge e ci abbraccia. Don Mario, una parola di speranza a tutti i nostri telespettatori. Lo dico anche a te. La finalità di questa trasmissione è proprio quella di accarezzare il cuore di tanta gente. Noi adesso pian piano stiamo uscendo dal tunnel, ma abbiamo vissuto l'esperienza di questa trasmissione in piena pandemia. E sappiamo quanto bene ha fatto a tanta gente costretta a stare a casa. E allora, così, una parola soprattutto da offrire alle persone che sono allettate, alle persone che sono ammalate, e che in maniera più forte vivono l'esperienza della croce. La speranza che una virtù diologale nasce come dono del Signore, la speranza nasce da qualcosa che già c'è. La speranza non è qualcosa che dovrà accadere, è qualcosa che già c'è che poi può diventare realtà, può diventare possibilità, può diventare salvezza. La speranza è un dono che va domandato, va chiesto. Ogni giorno, incominciando la giornata, si domanda al Signore di poter vivere fino in fondo, secondo la sua grazia. La speranza è un dono del Signore. Io personalmente vorrei augurare a tutti, soprattutto alle persone ammalate, alle persone più deboli, più fragili, a non perdere la speranza, come diceva Papa Francesco, ma partire sempre da una certezza che la nostra vita è nelle mani del Signore. Da qui possiamo sperare e domandare. Quante volte è successo che andando all'URD, guardando l'immagine della Madonna, abbiamo pensato, vedi un po', una ragazzina umile, povera, Maria, Bernadette, ha fatto di l'URD questo grande miracolo che è diventata la capitale mondiale della preghiera. E penso sempre a quello che dicevo poc'anzi, cioè la grotta di l'URD era un immondezzaio. E oggi noi, tra l'altro saputo è notizia fresca che adesso si può tornare a baciare, ad accarezzare quella grotta. Anzi, chiedo alla regia ancora una volta se ci possono mandare delle immagini relative appunto alla grotta di l'URD. Ecco, possiamo tornare ad accarezzare, baciare quella grotta. Ecco, che effetto ti fa pensare, e magari mi piacerebbe chiederlo ancora a voi se dovessimo avere tempo, che quel luogo così è diventato un po' il grembo all'interno del quale tutti ci riconosciamo figli. Ci riconosciamo figli perché c'è una canzone bellissima che ci fa in Brasile, io la conosco perché l'abbiamo insegnata anche ai nostri ragazzi. È importante guardare, avere uno sguardo. Ogni volta che ci va all'URD si bacia la grotta e si guarda, si guarda la Madonna. Quello sguardo rappresenta ciascuno di noi, rappresenta quello che vogliamo domandare, anche quello che non sappiamo domandare. Sapendo che quello sguardo incrocia lo sguardo della Madonna che viene incontro a noi e ci abbraccia. Io non so se è successo anche a voi, ma non so se avete notato e penso anche i nostri telespettatori che ci sono stati all'URD. Quella roccia è diventata liscia per via di tutte le carezze e i baci. Quasi a dire che la tenerezza verso una madre è capace di levigare anche le pietre più dure, le pietre più resistenti. E noi speriamo che attraverso questo gesto veramente la Madonna in questo momento storico con il suo amore possa levigare i cuori più resistenti. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa in merito? Abbiamo un minuto di tempo. Solo una frase breve che è quella che ha utilizzato Bernadette ai sacerdoti quando è andata a dire i vari avvenimenti. Quando vide che i sacerdoti erano un po' restii ad ascoltarla, disse la missione che io ho avuta è di dirvelo, non di farvelo credere. E quindi quello è il messaggio che noi diamo qui. Noi non vogliamo farvi credere che l'URD sia. Venite con noi, venite, andate all'URD e provate questa grande esperienza. E se potessi avere io la possibilità vi ci porterei tutti subito all'URD per farvi vivere un'esperienza bellissima. Io ricordo avevo 18 anni la prima volta che ci sono andato all'URD e devo dire che da quel momento è iniziata davvero una grande storia d'amore. E allora noi ci dobbiamo lasciare. Vi ricordo che andiamo in replica la domenica mattina alle 8 e ci vediamo sabato prossimo alle 15 con nuovi argomenti, nuovi viaggi, riprendiamo a viaggiare. E vi ricordo se volete scrivere, volete inviarci delle proposte, intenzioni di preghiera e quant'altro, scrivete a convoichiocciolaantenasud.com e allora grazie ai miei ospiti, grazie a tutti voi, grazie a voi che siete in tanti e come dico sempre, siate gioiosi perché il Signore è sempre con voi. A tutti un arrivederci. e come vi faccio